Ciao a tutti ragazzi, sono di nuovo io, Sevo Bricks Oggi in questo video vi porto un vecchissimo set Che praticamente è rimasto sui miei scaffali per tantissimo tempo E adesso lo spazio inizia ad essere veramente poco E ho deciso di recensirlo adesso perché lo voglio smontare e metterlo via Allora, questo set inizialmente è uscito a gennaio di quest'anno E devo dire che all'inizio mi ingarbava molto la linea Netsonite Perché era qualcosa di nuovo, per esempio questi set con questi pezzi molto colorati All'epoca mi hanno interessato molto E ho preso una per ogni fazione, questi buoni che sono i Netsonite E i cattivi che sono i mosti di lava Insomma, di sicuro qualcuno di voi saprà di cosa sto parlando Si renderà conto che è un set abbastanza vecchio Perché a me sinceramente non mi fa impazzire come ho appena detto Però insomma, diamo un'occhiata a questo modello Allora, il modello si chiama Lens Mechahorse Ok? E' ambientato, sono dei cavalieri futuristici Che Devono combattere questi mosti di lava Tra l'altro che vengono evocati da Il mago Cioè il giullare che Intanto vi sto facendo vedere come si trasforma Nella versione cavallo Eccolo qua E' un po' grande Ma tento di farvelo vedere al meglio Ok, ci siamo Si può fare Vedete che è veramente abbastanza alto Paragonato a una minifigura normale, no? Non è abbastanza alto Mi sembra una buona cosa E qui abbiamo il nostro Eroine Che il suo nome è Lance Lancaster Se mi pare bene E niente Lo scudo Scudo con i poteri in exo I poteri in exo Che in realtà sarebbero Sono Delle cose scannerizzabili Da mettere su un'applicazione del telefono Che in realtà è un gioco Quindi è niente di che Però comunque E' carino Questo cavallo E' veramente molto Ha veramente molte pose E' Molto carino Potete Fare tante pose Peccato che si vede questa ruota gigante Sotto il cavallo Che è un po' orrenda Anche la ruota qua dietro Però va abbastanza bene Visto che E' un cavallo Meccanico E qui abbiamo Il nostro robottino Che va bene Le minifigure Ve le faccio vedere dopo Dettagliatamente Però Questo Nostro Amico E' un Rubono Di Lens Che è Adetto Alla lancia L'arma principale Di Lens Visto che è un cavaliere La lancia appunto E qui c'è una specie di lancia Spara laser Con Questi Missili Che si tirano via Ma Niente di Eccezionalmente Funzionale Solo una roba Decorativa Cioè Sì Potete anche Potete benissimo anche toglierli Però Va bene Così no E Questo Fa un po' l'effetto Tipo del propulsore Che Che è un Propulsore laser Non so Pensatelo un po' come volete E questa Questo pezzo Sottasparente Dovrebbe sembrare una console Ma in realtà Non è affatto stampata Per 20 euro Voi ottenete Questo modello Che è veramente carino Decente Ma Non più di tanto Cioè Sì Allora display Se voi ne avete 10 O 11 modelli Di questa serie Che adesso ce ne sono Veramente tanti Però Ragazzi Sinceramente Come Molti di voi sapranno Lego costa Quindi O meno che uno Un appassionato come me Lavori E guadagni Abbastanza Tra regolette Questa è un'autocritica Per il sottoscritto E niente Ora lo ritrasformiamo In versione moto Basta Basta tirar su Le gambe Queste qui Si mettono così In modo da Creare dei propulsori E La crina del cavallo Crea Uno schermo Queste qui Si possono modificare Per rendere Ancora tutto Più figo Ed ecco qui Il nostro cavallo Ecco qua Bene Ora passiamo a vedere Tutte le minifigure Mi sembra di aver detto Tutto Sì Ok Passiamo a vedere Le minifigure Eccole qua Tutte le nostre minifigure Qui Eccoli qua Adesso vi spiego Chi sono Flametower O Flametower Insomma La mia pronuncia Non è perfetta Il cattivone Lens E Lens bot Ok Ora Togliamogli Tutta l'ambaradam Per vedere I torsi stampati Le facce Perché Hanno veramente Delle chicche E Eccoci qua Vedete Le facce E i torsi Le facce Sono Solo di questa E il nostro amico Lens bot Sono alternative Le facce Per il resto Non c'è niente E Queste sono Sono Insomma E' quello che vedete qua No Quindi ragazzi Per questo video è tutto Vi ringrazio per la visione Come al solito Mettete mi piace Condividete Iscrivetevi al canale Se non l'avete già fatto E Alla prossima Ciao